Allora, la storia è stata scritta, in quel di Reganati, 4 a 1 finale, praticamente avete tolto le castagne dal fuoco questo, scusate. No, no, abbiamo battuto una coppia peggio imbattuta sul campo di loro, ma la grossa prestazione è la coppia inedita. Eh sì, eh. Grazie, ricche. Allora, che ci dici? Dopo il punto in singolare, anche doppio. Giornata di assoluto livello, sono ancora fresco, prestazione superlativa, ma grazie anche al mio compagno che ha giocato alla grande. Oggi davvero abbiamo giocato questa. Un doppio eccezionale, bravi.